La Rieti Torano e l'Istituto Alberghiero tornano in consiglio comunale. L'appuntamento con la Sise è convocata dal Presidente Giampiero Marroni e per domani 2 dicembre. L'ordine del giorno prevede anche i lavori urgenti per la sistemazione e la messa in sicurezza di un tratto di via coste nella frazione di Poggio Perugino, l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e il riconoscimento della cittadinanza benemerita alla reatina Nicoletta Gnan, ricercatrice presso il CNR.